Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo tips veloce su questioni e problemi di Joomla che si possono risolvere in poco tempo. Il video di oggi nasce da una domanda che mi è stata fatta che mi ha detto ma io ho messo il menu principale di Cassiopeia, ci sono dei menu e dei sottomenu ma non scende la tendina. Come mai? Allora andiamo a vedere la questione. Se noi andiamo a vedere nel nostro mail menu vediamo che abbiamo una pagina test con una pagina testa 2 come sottomenu. Quindi in teoria se io ho messo il mio modulo di navigazione, quindi sul mio menu andiamo a vedere il modulo sito, abbiamo il nostro mail menu in posizione menu, in teoria sotto test dovrebbe venirmi fuori una tendina, dovrebbe aprire una tendina con la voce test 2. Cosa che però non succede. Perché non succede? Allora se noi non utilizziamo Cassiopeia standard così come nasce con i moduli già preimpostati, con i menu già preimpostati eccetera eccetera ma ce lo creiamo per i fatti nostri, quindi creiamo per esempio un nuovo modulo menu che mettiamo in quella posizione lì. Quindi di default le sottotendine non si vedono. Come mai? Perché? Perché in realtà nella voce di menu del modulo dobbiamo andare a modificare una piccola opzione per abilitarle. Andiamo a vedere subito come si fa. Quindi noi andiamo in moduli sito, andiamo nel main menu che è quello che noi abbiamo appena creato e messo in posizione menu di Cassiopeia. Innanzitutto dobbiamo vedere che il livello iniziale sia 1 e il livello finale sia tutti, quindi dobbiamo aggiungere i livelli finali, quindi secondo, terzo livello, cosa sono i livelli? Sono il menu, sotto menu, sotto menu del sotto menu eccetera eccetera. Quindi dobbiamo dare la possibilità al nostro modulo di caricare anche tutti i sotto menu. Dobbiamo mettere come mostra la voce mostra sotto voci di menu che troviamo qua come ultima opzione del nostro modulo, ma soprattutto dobbiamo andare in avanzate e in layout non mettere più predefinito, che è quello che nasce, che viene settato di default quando io creo un nuovo modulo menu. Ma dobbiamo andare a selezionare da template Cassiopeia o collapsible drop down oppure drop down e basta. Andiamo a vedere qual è la differenza. Se noi mettiamo drop down e basta, salvo e aggiorno la mia pagina, già vedo che qualcosa cambia, è comparso una freccetta che se io ci clicco mi viene fuori il sottomenu, quindi già in teoria funziona tutto come dovrebbe. Se noi però andiamo a vedere il nostro menu a livello mobile, vediamo che rimane esattamente tutto come è anche da desktop, semplicemente uno sotto l'altro. La differenza sta nel layout, quindi se noi andiamo a selezionare non drop down e basta, ma collapsible drop down, salviamo e aggiorniamo, vediamo che da mobile il nostro menu diventerà il classico burger menu. Quindi avrò home test e poi ho test 2, potrò aprirlo normalmente come faccio direttamente da desktop. Quindi la differenza sta nel dire al sistema se voglio il burger menu in mobile o meno e la differenza la dico da qua, da il layout collapsible drop down. Se lascio collapsible drop down e torno in versione desktop, ecco che mi ritorna il mio menu normale. Quindi in realtà di solito basta avere solo il menu collapsible drop down che da desktop si vedrà come il menu normale, ma appena io andrò in versione mobile si trasformerà nel famoso burger menu. Spero che questo video abbia risolto qualche dubbio, se avete domande ovviamente potete scriverle direttamente nei commenti del video. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao! Ciao!